Il sindaco Paolo Dosi nel primo pomeriggio si è affrettato a rinominare i cinque assessori confermati, pur senza deleghe, forse per non affrontare il prevedibile fuoco di fila delle polemiche che lo attendeva in aula in Consiglio Comunale. Quella più dura è arrivata dai moderati, che a questo punto non devono più essere considerati parte organica della maggioranza. Sono molto arrabbiato perché non abbiamo fatto sicuramente una bella figura nei confronti dei cittadini e della cittadinanza che vive un momento molto difficile. Vi siete sentiti per l'ennesima volta esclusi? Sì, ci siamo sentiti sempre esclusi dall'inizio alla fine di questa consigliatura, mai coinvolti e nemmeno questa volta quando io ho saputo alla mattina alle sei e mezza del 7 di gennaio da alcuni pendolari come me che dalla libertà c'era scritto che il sindaco avrebbe fatto del rimpasto in giunta. Io non sapevo assolutamente niente e sono caduto dalle nuvole, facendo sicuramente non una bella figura. Roberto Colle e Lucia Rocchi sono ancora parte organica della maggioranza? Roberto Colle e Lucia Rocchi fanno quello che hanno sempre fatto fino adesso, voteranno i provvedimenti che vanno nella direzione del bene della città. La critica si è infiammata sin dall'inizio della seduta con i duri commenti di Filiberto Puzzo del gruppo misto, Paolo Garetti di Sveglia e Massimo Polledri della Lega Nord, il quale ha portato in aula mele e banane per denunciare il fatto che il sindaco è alla frutta. Dure critiche anche da Marco Colosimo di Piacenza Viva, dagli azzurri Maria Lucia Girometto e Giovanni Botti e dai consiglieri del Movimento 5 Stelle. Tranciante Marco Tassi del PDL. Io se fossi nel sindaco a questo punto con la figura che ho fatto, con questa revoca degli assessori, la non nomina dei nuovi oggi e tutto, io molto elegantemente direi vado a casa perché a questo punto non sono in grado di governare questa città e il voto degli elettori non è stato ben riposto. Non meno pesante è Tommaso Foti di Fratelli d'Italia. È un rimpasto che attualmente non c'è ancora perché non è stato ancora finito, perché al sindaco devono ancora dettare gli ultimi nomi. È evidente che siamo in presenza di una delle pagine più squallide della vita politica piacentina. Vi è una crisi economica che galoppa, vi sono delle famiglie che non arrivano alla fine del mese e la giunta dosi e chi la appoggia si diverte a rubare a bandiera. Un giorno rubano la sedia a uno, un giorno all'altro, un giorno all'altro ancora. Toni meno duri ma ugualmente critici dai grillini. Noi siamo disposti anche a votare favoremente quelle che sono le proposte, ma però c'è da dare una mossa. Qui si sta ovviamente concretizzando quello che è la politica partitica, dove il partito cala dall'altro nome, cala dall'altro anche quelle che sono le scelte di un'amministrazione. Il capogruppo del PD Daniel Negri ha difeso i 18 mesi dell'amministrazione dosi, ringraziando gli assessori uscenti e invitando il primo cittadino a dare l'impulso necessario per il tanto atteso cambio di passo. La seduta è stata sospesa su proposta della minoranza che ha chiesto che siano i nuovi assessori a rispondere alle interrogazioni e alle emozioni che erano in programma oggi. La seduta è stata sospesa su un'amministrazione dosi, ringraziando gli assessori e alle emozioni che erano in programma oggi.